Ciao da Rimini, sono arrivata nella casa e è molto molto carina qua con me C'è Chiarina, sono distrutta Comunque l'appartamento è molto molto carino, molto luminoso, lo faccio vedere brevemente Questo sarà il nostro letto, le mie valigie, qua c'è un bellissimo terrazzino per fare colazione, molto molto carino Adesso pranziamo e poi andiamo in fiera Dai Chiara, dai Voglio andare È tutto buio perché Stiamo andando Speriamo di trovare la strada Vedatemi qualcos'altro da fare C'è il Conard Vabbè ci riaggiorniamo tra poco e rimaniamo in vita Buonasera ragazzi, siamo tornati in camera Adesso aspettiamo un'altra ragazza, ceneremo qua insieme nell'appartamento E poi andiamo a fare un giro sul lungomare Allora noi siamo in terrazza e con questa splendida illuminazione vi mostro le nostre cene Allora io ho fregato una pentola E mangio l'insalata mista con le gallette Niente proteine stasera perché oggi ho rubato tutte le barrette proteiche dagli stand Quindi con le proteine stiamo a posto Mentre Chiara si mangia burger vegetale, verdure e gallette Mentre Francesca Io cuscus, scondro, comodori e fagiolini in scatola Perfetto Allora noi questa sera siamo partiti dall'hotel E noi torniamo a mangiare il gelato E siamo venute nella gelatteria famosa grazie a Francesca Cioè sono venuta qua e abbiamo trovato tipo 20 persone Cioè siamo tutte qui Cioè siamo in 50.000 E siamo tutte venute a prendere il gelato Cioè io sono venuta qua dicendo vabbè mangiamo un gelato Invece tutta la gente Rimini wellness nella gelateria Ciao Ciao Buonanotte Ragazzi ecco la mia colazione Qua abbiamo un bel caffè latte Porridge nocioloso Con yogurt, banana e ciocco bella noir Buongiorno Noi stavolta un po' di mare Sì E poi anche pomeriggio Qualcuno mi ha dato della mozzarella A me Secondo giorno di fiera Dopo questa bella ricarica solare Chiara è stata sempre all'ombra Poi mi fa Come fai a essere così a pranzetta? Sto al sole Ok siamo appena arrivati in fiera Adesso stiamo raggiungendo Simone di Net Body E perché mangiamo insieme? Adesso stiamo cercando il tavolo Eccoli avvistati Avvistati È Libia Bellissima Libia Vittà Musica 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 Sono arrivata nello stand di Glamove Potete vedere la loro bellissima esposizione di prodotti Carino, sembrano i pacchi di proteine Noi siamo pronte per la serata di questa sera Stasera andiamo a cena con la nostra coach Francesca E altri ragazzi e altri ragazzi Il fratello e il fidanzato Insomma sarebbe un bel gruppetto Quindi sono molto felice perché Insomma mi fa sempre piacere vedere la mia coach Guardate quanto siamo Raga stiamo a casa Cioè a casa Nell'appartamento dove stanno Domenico e Francesca Mi ha detto tutta la borsa E cioè qui c'è un delirio dentro questa casa Adesso vi faccio vedere innanzitutto Manu in accappatoio sexy verde Ciao Guarda Via la camera mia Via dai Poi sei in cucina Poi abbiamo Martina In fiffrata O per Chiara Non so sempre con me Dicevo che questa è la casa dei disagiati Domenico Ciao ragazzi Siamo in centro recupero per qualsiasi persona Che non abbia un loco dove stare Stiamo aspettando che si finiscono di preparare Intanto stiamo scannocchiando gallette Sì che è appalato Buonissimo Buonissimo Adesso facciamo un taste test delle cialdine Vai Però sono buoni I macroni sono buoni Ho scelti accuratamente Mi ricordo un po' il corpo di Cristo Siamo mangiando la piadina Buongiorno dal nostro tester Terzo giorno E stiamo andando In fiera Nell'ingresso VIP Ingresso ovest Ingresso VIP Come dubbio è Allora Stiamo tutti vloggando Stiamo con Silvia e Veronica Io faccio finta Ma la tua è figa Bellissima così Stiamo guardando Veronica e Silvia Che faccio Gli stiamo facendo compagnia Perché poi Silvia deve andare a lavorare Mentre noi Cazzeggeremo Ciao Ciao ragazzi, sono allo stand di FoodSpring E sono insieme a tutti i teammates, che bello, sono veri C'è un casino della miseria, io non ci sto capendo niente C'è un sacco di gente che mi sta salutando e io tipo così Aiuto, non so cosa fare Ciao, le claudie, le claudie Bravo, lo straddle Ho brato Silvia a fare un po' di ball dance Allora, sono da Glemoop anche oggi e sto per fare il massaggio viso Bene, poi c'è anche Vali È arrivata la prima portata Cos'è questo? Tortino melanzana? Oh mio Dio È arrivato Arrivato Cioè ragazzi, parliamone Abbiamo leggermente esagerato, giusto un pochino Guardate che bella tavolata di ragazze Cioè siamo tutte donne Nessuno mi ha cagato però siamo tutte donne Ok, faccio io Ciao Comlichkeit Scribbene LORO Lex LORO 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 Buongiorno ragazzi oggi è domenica ed è l'ultimo giorno di fiera Adesso stiamo ad un bar a prendere il caffè Io vi volevo far notare come mi sono conciata Cioè ragazzi fare la scimmia, le parallele E ho tutti i calli rotti, tutte le sciche scoppiate E oggi lo vorrei rifare perché non posso andare via senza rifarla quella cosa È un po' divertente È vero che mi ci riaccompagni Sì sì Ti ci porto, te lo faccio guardare, te la faccio penare E poi bè Nooo Allora dopo anni che seguo Francesca Fitness Freak Finalmente mangio qualcosa che ha preparato lei Faccio salutare Hola Ciao E così si conclude il mio rimi di wellness Alla grande lei con lo stomaco pieno Alla grande lei con lo stomaco pieno Grazie a tutti. Grazie a tutti.